Nel silenzio interiore Una voce attraverso Attilio M vocedellacuiete.vaglianochiocciola gmail.com Una voce Si parla di divenire intendendo un tempo ed uno spazio in cui ogni essere vive in relazione con altri esseri. Voi uomini però ritenete che il luogo dove siete vi appartenga o perché scelto o perché accettato così come il tempo che vivete e che trasformate in concetto mentale in modo da potervene servire adattandolo alle vostre esigenze. Nel silenzio interiore tutto appare sacro e non si giudica, non si aggiunge e non si suggerisce più nulla. Si è in ciò che è istante dopo istante. È in questo la morte della mente giudicante ed è la resa dell'uomo alla vita. Perché la resa alla vita è accogliere gli esseri ed i fatti che si presentano quindi anche i pensieri e le emozioni senza pretendere di modificare nulla e senza giudicarli per le limitatezze che mostrano pur osservandole perché ciò che appare come limitatezza è parte della vita nel relativo non appartiene a voi uomini che vi attribuite i limiti per dirvi io sono colui che è circoscritto dentro questi limiti quindi io ci sono. Ma non fraintendete queste parole perché noi voci dell'oltre non stiamo invitandovi a rinunciare ad agire oppure a smetterla di prestare attenzione agli altri perché non vi parliamo delle azioni che fanno parte della concretezza del quotidiano ma vi stiamo solo invitando a non aggiungere nulla di voi a ciò che c'è e ad accogliere gli altri senza la pretesa di modificarli. Vivendo un silenzio interiore l'offerta sorge da dentro insieme alla consapevolezza dei limiti di quell'offrire eppur spinti a farlo anche se non si sa che cosa aggiungerà all'altro e che cosa poi si genererà in lui. Si sa solo di non essere gli artefici né del togliere e né dell'aggiungere e la vita che attraverso quel gesto presenta all'altro la possibilità di comprendere che non c'è nulla da compiere in base al proprio io.